signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e continuiamo la nostra serie sulle culture che caratterizzano il mondo del gdr nell'ultimo appuntamento abbiamo visto la scuola classica quella più vecchia tra tutte e la sua reinterpretazione moderna all'osr questa settimana andiamo avanti e vedremo la seconda corrente che è venuta a svilupparsi e a sua volta la sua reinterpretazione contemporanea il titolo l'avete visto stiamo parlando della corrente tradizionale e della corrente neo tradizionale che poi in mente sono talmente diffuse che pensate non ci sia assolutamente niente che dobbiate sapere a riguardo ma in realtà questa è una delle cose che le fa sottovalutare e molta gente dà per scontato che tutto quello che non abbia una classificazione sia trad quando in realtà non lo è quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere appunto la storia e l'evoluzione del trad e del neo trad nello scorso video abbiamo visto che se vogliamo trovare un punto di svolta nell'evoluzione delle varie scuole di pensiero sul gioco di ruolo probabilmente il 1981 è una data estremamente significativa perché è l'anno in cui è uscita la prima edizione di The Call of Cthulhu il richiamo di Cthulhu è un gioco horror ovviamente ispirato all'ononima saga di Lovecraft e il suo manuale che nella sua prima edizione è uno dei più vecchi questa che vedete qua è la quinta di Strate Libri ecco fu il primo manuale a discostarsi dall'approccio classico in maniera chiara e precisa dicendo che il master non era lì per fornire una lenta progressione metodica verso livelli di potere sempre più forti non doveva esserci un bilanciamento della difficoltà degli incontri ma che al contrario il master fosse lì per fornire un'esperienza narrativa il gioco doveva essere un racconto un racconto horror nello specifico in cui quello che sarebbe stata la vicenda personale dei giocatori era la cosa più importante a discapito di quello che era il loro avanzamento di potere e tutto il resto questo che probabilmente per la maggior parte di voi soprattutto quelli relativamente giovani è perfettamente normale è ovvio che se stai giocando di ruolo stai raccontando una storia in realtà fu la prima scossa di quello che diventò presto un vero e proprio sconvolgimento sismico all'interno del mondo del gioco di ruolo ne avevamo anche parlato in un vecchio video lo lascio linkato qua in alto inizialmente infatti la storia non era assolutamente qualcosa di importante nel mondo del gioco di ruolo ovviamente le vicende dei personaggi avrebbero formato un qualche tipo di narrativa una serie di eventi collegati ma non era quello il motivo per cui si giocava quello era un surplus si giocava per vivere le vicende dei personaggi e gestire le loro vite pian piano invece il focus si stava spostando non era più centrato sulla metodica progressione dei personaggi verso livelli di potere sempre più alti ma sulle effettive avventure che vivevano e quelle dovevano essere principalmente interessanti da essere vissute indipendentemente se questo portava poi un guadagno o meno ci si era ribaltati adesso bisognava raccontare una buona storia se poi ci si guadagnava qualcosa meglio in realtà questa tendenza non era qualcosa del tutto nuovo all'interno del mondo di ruolo nella protocultura originale c'era sempre stata anche una componente di giocatori che puntavano più alla narrazione che all'impegno tattico nella fattispecie questa all'epoca era la scuola californiana di gioco di ruolo ma non era mai diventata predominante per il fatto che la cultura era ancora principalmente popolata da gente che veniva dai giochi da tavolo e dai giochi strategici quindi avevano proprio una mentalità molto più orientata verso la progressione lo sviluppo ma col fatto che il gioco di ruolo si stava espandendo per tutti gli anni 70 con più gente che entrava molta di questa gente non veniva più dal wargaming ma erano appassionati di fantasy o di fantascienza che erano lì proprio perché avevano interesse nel ricreare personalmente quelle che erano le opere letterarie che loro apprezzavano stiamo comunque parlando degli anni 70 che per noi adesso è qualcosa che anzi sta andando in disuso ma gli anni 70 furono l'epoca d'oro della televisione quindi molte persone avevano per la prima volta la possibilità di seguire i telefilm e i vari sceneggiati quindi c'era un interesse del pubblico verso il ritorno alla grande narrazione se vogliamo dirla così questo stile crebbe lentamente e si diffuse fino a quando nell'83 non fu adottato come stile ufficiale dalla stessa tsr per la nuova versione riveduta e corretta del suo dnd l'advance probabilmente il contributo più fondamentale a tutto questo fu dato dai coniugi icman che sono gli autori di alcune ambientazioni storiche tra cui ravenloft ma in questo caso quella più significativa è proprio dragon lens che ebbe tutta una serie di romanzi a supporto che causarono un vero e proprio circolo di feedback perché molti dei nuovi giocatori che arrivavano non arrivavano dal wargame ma arrivavano proprio dopo aver letto i romanzi di dungeons and dragon e quindi si aspettavano un'esperienza molto più simile a quella di un romanzo questo nuovo stile fu abbracciato anche da molte altre case editrici e continuò a consolidarsi come lo stile dominante oltre all'advance il già citato call of tulu abbiamo anche titoli che rappresentano le basi fondamentali del gioco di ruolo moderno come cyberpunk e probabilmente quello più interessante da questo punto di vista fu vampiri della white wolf che puntò tantissimo del suo marketing proprio sul fatto che quello era un gioco in cui il concetto dominante era raccontare storie mature con personaggi complessi in un'ambientazione complessa e non semplicemente girare per il mondo raccogliere tesori anche se nella pratica per vampiri non era proprio così questo è un argomento di cui prima o poi dovremmo dedicarci un video di storia diciamo comunque che la diffusione di questo particolare stile fu tale talmente pervasiva che quando arrivarono il 2000 la grande rivoluzione digitale la comunicazione globale che portò il riassestamento e la rivoluzione anche all'interno del mondo del gioco di ruolo in cui grandi stili di gioco vengono codificati questo stile diventa proprio la base dei giochi di ruolo tradizionali chiamati così non tanto perché sono i giochi di ruoli originali quello in realtà come abbiamo visto nello scorso video stile classico ma perché lo stile era talmente diffuso da essere considerato fondamentalmente lo stile di gioco di ruolo normale se non si aggiungeva altro si diceva semplicemente che ci si stava giocando di ruolo tutti davano per scontato e si stava appunto giocando in questo modo per quanto la cultura trad sia quella considerata banale questo non vuol dire che non sia strutturata e non abbia dei suoi stilemi e delle sue regole per dichiarare cosa è trad e cosa no nella cultura trad ovviamente la cosa centrale e la storia e qualunque cosa dipende in qualche modo da essa se una regola un comportamento o anche una scelta di un giocatore andrebbe a peggiorare la storia banalizzarla o renderla meno interessante questa deve essere eliminata non deve interferire con il buon andamento della storia questo ha portato anche a cambiare quello che era il ruolo previsto del master che non era più un semplice arbitro neutrale che dovesse garantire il fair play di quello che accadeva al tavolo ma dovesse diventare un vero e proprio sceneggiatore il narratore che raccontava la storia e i giocatori e coinvolgeva i personaggi nelle vicende che avvenivano al tavolo il master quindi poteva cambiare o piegare le regole a sua volontà se riteneva che questo migliorasse la storia e i giocatori potevano anche prendere delle decisioni che ritenevano interessante anche se contrarie all'interesse dei loro personaggi o a quello che loro avrebbero fatto da qui tutto i vari discorsi su e quello che avrebbe fatto il mio personaggio in più c'era anche la seria possibilità che qualcosa venisse negato anche se magari razionalmente possibile ma perché quella scelta non era in linea con i temi o i canoni della letteratura di riferimento che si era scelta per quella storia sì infatti l'altro punto cardine della corrente trad è che la storia e il gioco devono mantenere gli standard che sarebbero previsti per qualsiasi altra forma di rappresentazione letteraria quindi la storia è divisa in atti gli atti sono divisi in scene a seconda se si vuole più andare verso una narrazione di tipo cinematografico in cui ci sono appunto scene e sequenze o magari se si può andare verso un'esperienza più letteraria ci sono capitoli e paragrafi ma comunque devono essere rispettati i trop e tutti i vari cliché del tipo di narrativa di riferimento per fare in modo che la storia raccontata si adatti il più possibile a quella che sarebbe una storia ufficiale come quelle che potreste leggere in un romanzo o vedere in uno spettacolo televisivo molto spesso infatti viene detto che se vi siete mai seduti a un tavolo in cui avete avuto l'impressione di vivere dentro uno show televisivo anche se metà delle cose che avete proposto vi è stato detto che non potete farle ecco quello è un tavolo trad ovviamente ci sono anche degli evidenti lati positivi in questo metodo il primo è che va a centrare tantissimo potere nelle mani del master che avendo questo ruolo di regista e supervisore della storia può facilmente schiacciare la volontà o l'interesse degli altri giocatori fondamentalmente è lui che decide cosa può avvenire che cosa no limitando molto la possibilità di scelta dei giocatori e per il master stesso questa diventa una responsabilità estremamente pesante perché non solo deve garantire il buon andamento del gioco ma deve anche avere tutta una competenza esterna su quali siano gli archetipi e i paragoni letterari a cui lui deve cercare di avvicinarsi il master deve avere delle vere e proprie competenze in narratologia per poter portare al tavolo una storia secondo i canoni corretti per cercare di semplificare il lavoro al master che adesso aveva molte più responsabilità rispetto che nello stile classico i manuali hanno cercato di compensare aumentando molto il livello di regolamentazione di modo che il master non dovesse più inventarsi le regole mentre si giocava ma che tutta la gestione di quelle che hanno le regole veniva tolta al master per diminuire anche il suo potere che già era aumentato è data esclusivamente al regolamento che di per sé è una cosa positiva ma portava il regolamento a diventare estremamente dettagliato e complesso appunto per cercare di regolamentare ogni possibile situazione di gioco e di conseguenza questo lo porta a essere molto più complicato e pesante un manuale tradizionale deve proprio essere studiato in poche parole il gioco trad diventa molto più impegnativo sia per il master ma anche per i giocatori il master perché deve prendersi la responsabilità di non abusare il suo potere di raccontare una buona storia e ai giocatori perché devono effettivamente leggersi e studiarsi molto bene le regole e capire quali sono i limiti che gli vengono concessi in base al tipo di storia che sta venendo raccontata inutile dire che non a tutti sta bene questo tipo di gestione dell'autorità al tavolo senza contare che pretendere che il master e in realtà anche i giocatori abbiano conoscenze avanzate di teoria letteraria o competenza di scrittura potrebbe portare una vera e propria barriera d'accesso al gioco che scoraggerebbe molte persone il bello però della comunità del gioco di ruolo è che è una cultura intrinsecamente creativa quindi se questi potevano essere dei problemi sono stati risolti perché in realtà è sempre stata una componente ma soprattutto negli ultimi anni dalla cultura tradizionale è venuta a manifestarsi una branca che vede mantenere alcuni aspetti ma ci si discosta per altri e è appunto per quanto ancora acerba e non ben canonizzata ha cominciato a darsi una struttura ed è quella che noi chiamiamo lo stile neo tradizionale per ora il neo trad è ancora un grosso calderone la cultura si è sviluppata meno di dieci anni fa se voglio ammetterla così quindi servirà ancora almeno un'altra decina d'anni perché si abbia una codifica effettiva però ci sono dei punti che sono emersi in maniera molto chiara il primo è un approccio diverso rispetto alle regole che sono tornate a essere più astratte e anche meno vincolanti in modo da rendere il gioco più facile da imparare anche solo giocandolo per quelli che ci si approcciano dalla prima volta e c'è anche un grosso ribaltamento nei confronti di quella che è la figura del master che è sempre lì per garantire il racconto di una storia ma il suo ruolo passa da narratore attivo della vicenda a un ruolo di supervisione di quelle che sono fondamentalmente le proposte da parte dei giocatori probabilmente è proprio questa la caratteristica rilevante che distingue un tavolo trad da uno neo trad anche perché i regolamenti in molti casi possono essere swappati non è questo il problema un tavolo tradizionale vede il master che dice ai giocatori cosa sta succedendo e poi vede come loro reagiscono per mandare avanti la storia un tavolo neo trad al contrario vede il master chiedere ai giocatori cosa vogliono che i loro personaggi facciano e poi reagisce facendo rispondere il mondo di gioco alle scelte che arrivano però direttamente dai giocatori in pratica il neo trad non piega la volontà dei giocatori alle necessità del mondo di gioco ma piega il mondo di gioco alla volontà dei giocatori può sembrare una differenza insignificante in realtà è estremamente significativa anche in questo caso è stato dungeons and dragon a portare alla ribalta questo nuovo cambiamento nella cultura del gioco se l'advance è stato il primo gioco espressamente trad la quinta edizione è considerato essere il primo gioco di larga diffusione neo trad anche se a voler essere precisi il termine precedente e originariamente veniva utilizzato per indicare giochi tradizionali ma che incorporavano elementi presi dai giochi forgiti anche se ora è stato totalmente reclamato dalla scuola neo tradizionale e questo suo significato originale praticamente del tutto dimenticato quanto esponente della cultura trad però probabilmente non sono la persona più qualificata a parlarvi del neo trad che per quelli della mia generazione rappresenta un vago concetto di questi giovani che ballano la trap su tik tok quindi nelle prossime settimane ho chiamato in aiuto un collega youtuber il dungeon mastro che ha un canale che si occupa proprio di tra le varie quinta edizione giochi neo tradizionali e vedrete un'intervista con lui in cui vedremo di spiegare un attimo qual è la situazione del neo trad attuale e che cosa vuol dire per la sua comunità fino ad allora la parola sta a voi ditemi se vi rappresentate più nella cultura neo tradizionale o se invece siete semplicemente bravi a masterare perché avete scelto una cultura o l'altra o nessuna delle due o entrambi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete le opportunità cresce del canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco dal gruppo i telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove si raduna anche il resto della community in cui saltano sempre fuori discussioni interessanti soprattutto quando i neo trad e i trad cominciano a litigare tra di loro se questo è un marchio di fabbrica la community del master cae per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video ciao